we bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video io sono xyuder e ragazzi anche oggi abbiamo un bel po di novità per quello che riguarda fortnite e tutto quello che sta succedendo intorno a fortnite nel video di oggi vi spiegherò tutto il macello che tra apple e si è buona la gente mentre registro ma che cavolo succede il problema tra apple ed epic games approfondito come anche altre aziende si sono schierati e che cosa è stato scoperto che apple ha fatto nel 2017 parleremo però anche della nuova coppa su fortnite e di tanta roba prima però volevo ringraziare tutti i ragazzi che ogni giorno mi supportano nello shop con il mio codice creator xyuderone grazie mille ragazzi per il vostro sostegno mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali e soprattutto di attivare la campanella per non perdere nessuna notifica con i miei video news e allora andiamo direttamente a parlare del primo argomento di oggi ed è un argomento molto importante le finali delle fn cs trovate il piccolo articolo direttamente nella pagina principale delle news sul sito di epic games ma ve lo leggo io in italiano guarda la gran finale di ccfn in party royal ehi fan di fortnite questo fine settimana si giocherà la gran finale della competizione campioni di fortnite per il capitolo 2 stagione 3 e sarà possibile seguirla nel gioco sul grande schermo di party royal lanciati nella playlist di party reale questa domenica 16 agosto alle 19 ora italiana per seguire i più grandi giocatori di fortnite mentre ingaggiano battaglie per una chance di diventare i campioni nord america east e europa della championship series il calendario delle trasmissioni seguirà i nostri formati precedenti dalle 19 di domenica inizio dalla gran finale della competizione dalle 19 e 15 la copertura in diretta eu 23 15 copertura in diretta n a e alle due e mezza del mattino la fine di tutto quindi ragazzi in bocca al lupo ai partecipanti un grandissimo spettacolo che non possiamo perdere lo si vedrà nel party royal se ce la faccio mi troverete in live a commentare e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ancora per un paio di giorni se non ricordo male è disponibile la open beta di avengers per tutti i possessori di ps4 importante ragazzi perché completando la beta sarà possibile sbloccare questo piccone che in realtà non è un piccone ma sono i pugni di hook con uno stile personalizzato davvero bellissimi quindi mi raccomando fateci un pensierino anche perché avengers open beta deve essere un prologo di un gioco che tanta tanta roba sarà e andiamo avanti ragazzi perché vi faccio parlare di un'altra cosa anzi sì è questa qua ragazzi un annuncio che è arrivato ieri sera introducing the raised cup tournament quindi un nuovo torneo in squad squad up on august 18 quindi lunedì no martedì in all regions quindi tutti i server aperti to compete for a chance to win the raised cup emot quindi giocherete in squad per competere e vincere un emot esclusiva ve la voglio ovviamente fare vedere non posso farvi ascoltare purtroppo l'audio perché è copyrightato ma questo ragazzi è davvero una di quelle mot che diventerà abbastanza rara e che farà vedere a tutti che sarete stati alcuni dei vincitori della raise the cup quindi ragazzi trovate subito una squad per poter partecipare questo martedì alla coppa comunque trovate come vedete il link fn.gg raise the cup per tutte le informazioni e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché volevo semplicemente farvi vedere delle modifiche che erano presenti su salva al mondo per quanto riguarda penny la skin che oramai forse è disponibile ancora oggi nello shop e che potrebbe non rimanere più per tanto come vedete c'è una netta differenza tra save the world e battle royale lo notiamo ad esempio nei dettagli sia degli occhi che di tutti gli accessori devo dire che penny a parte che è un po grossa ma comunque è tanta roba da giocare veramente molto molto bella come skin e quindi gg come vi ho detto potrebbe arrivare anche un'altra serie di eroi di salva al mondo direttamente su battle royale e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché ieri vi avevo anticipato che ci sarebbero state le due nuove skin dedicate all'evento hightower vi ricordo atena comando f che sta per female quindi una skin femminile hightower squash e invece per quanto riguarda maschile hightower grape in realtà sembra che ci sia una correzione dovrebbero essere delle skin che arriveranno nella season 14 o meglio nella season 4 non abbiamo quindi altre informazioni non esistono delle immagini ma questo ci fa pensare che quindi tutta la nuova tutte le nuove parti di mappa che staranno per arrivare oramai non li vedremo più prima del 26 agosto ma le vedremo direttamente con il mega aggiornamento che ci porterà nel nuovo nella nuova season di fortnite andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi a questo ragazzi intanto due secondi è il rift che apparirà tra pochissimo sopra al rapide rischiose quindi già lo avevate visto nelle season precedenti ma questa è proprio l'immagine in game non appena apparirà e vi ricordo che il rift è collegato a tutto l'evento dove ci sarà appunto in lobby il comic book con delle immagini chiarissime per quanto riguarda thor e galaga e un po tutto il resto thor ragazzi ve lo ricordo potrebbe arrivare simile a questa skin questo è un concept è fatto veramente molto bene e non c'entra nulla con il john si ciccione che invece abbiamo già shoppato e andiamo avanti a parlare del prossimo argomento di oggi perché volevo ancora tenervi aggiornati su questa cosa che non potete non sapere allora ieri per chi ha guardato il video invito a riguardarlo o a guardarlo se non l'ha fatto vi ricordo i vbucks costano di meno quindi epi games ha deciso di togliere il 30 per cento dal costo dei vbucks per sempre visto che gestisce da sola i cash il problema è che ha violato le regole dell'app store di ios quindi di microsoft da oramai ieri non è più possibile scaricare fortnite sull'app store ma da poche ore anche sulla piattaforma di google quindi sui sistemi operativi android non trovate nel play store fortnite questo non vuol dire che non potete scaricarlo perché le apk ovviamente esistono ma non è più possibile prenderla da play store perché sta succedendo questa cosa e che cosa sta succedendo il problema ragazzi è che le compagnie che gestiscono questi queste piattaforme quindi google per quanto riguarda android e microsoft per quanto riguarda apple non stanno più prendendo la loro corrispettiva parte degli acquisti in app che noi giocatori facciamo nel negozio di fortnite dato che fortnite ha deciso di gestire tutto autonomamente il problema ragazzi è che fortnite non può fare questa cosa perché ha violato è la gli accordi che vengono accettati quando si decide di sponsorizzare un proprio software su queste piattaforme questo vuol dire che purtroppo se non esiste non si trova un accordo da dal 26 agosto dalla patch 14.00 non saranno più possibili gli aggiornamenti sui mobile e qua si parla sui mobile in generale ragazzi quindi tagliati fuori da fortnite tutti gli utenti mobile il problema ragazzi è che né google né microsoft hanno assolutamente problemi a togliere dai propri store un videogioco come fortnite dato che guadagnano 10 volte tanto al giorno e per loro era semplicemente un introito extra questo ricade tutto ovviamente sui giocatori che non potranno più fino ad adesso fino a che non arriva un nuovo accordo non potranno più giocare dai loro dispositivi il problema ragazzi questo intanto è il google statesman quindi una nota ufficiale di google che dice il nostro il nostro ecosistema open di android lascia che i distributori e ovviamente quindi gli sviluppatori utilizzano possano mettere le proprie app sui nostri store per gli sviluppatori di giochi che utili che decidono di utilizzare il play store noi abbiamo una una policy molto molto rigida che permette di garantire una copertura negli acquisti per chi acquista ovviamente mentre fortnite invece rimarrà disponibile per android non sarà più disponibile sul play store perché hanno violato la nostra politica comunque noi prendiamo questa opportunità per trovare un accordo con epic games quindi sebbene microsoft sia completamente chiusa android google decide di dare una chance quindi potrebbe esserci una una collaborazione davvero il problema ragazzi è che adesso epic games con questo casino ha fatto saltar fuori una cosa molto curiosa si è scoperto che apple dal periodo del 2017 fino ad adesso ha dato la possibilità ad amazon di non pagare il 30 per cento sulle commissioni del prime video allo a microsoft ma solo il 15 per cento e questo è un casino questo è un casino per apple perché non può farlo perché allora non vai a dire a fortnite che stai violando delle politiche di regolamento qua ragazzi parliamo di milioni di milioni di euro nel senso e da qua si è aperta ovviamente una causa legale che ovviamente andrà avanti e avanti e avanti l'unica cosa che sappiamo è che spotify si schiererà invece dalla parte di epic games dando il massimo supporto economico e legale per capire bene come mai sia stata data la possibilità ad amazon di usufruire di questo trattamento di favore insomma ragazzi non perdete i video news futuri perché io tengo sott'occhio tutta questa situazione e tutto quello riguardante fortnite vi ringrazio tanto per avere guardato questo video mi raccomando non dimenticate di iscrivervi ai miei canali un bel like e a me mi trovate proprio adesso in live su twitch ciao ciao